Oggi abbiamo votato in aula il piano aria della regione Emilia Romagna, il PAE 2020 e ci è stato impedito di introdurre nessun miglioramento perché su 31 emendamenti ci hanno bocciato 31 emendamenti quindi non è stata da parte nostra la possibilità di poterci mettere in mano. È un piano con poco coraggio, che non disturba gli altri piani che lo sostengono, come il piano trasporti piuttosto che il piano energetico o altri o PSR. Sostanzialmente non ha una sua struttura autoportante quindi se gli altri piani vanno in altre direzioni il piano aria sarà a carta straccia. Dentro ci sono anche delle ottime iniziative, delle ottime declinazioni ma poi nella sostanza non ha struttura per essere sostenuta. Noi questo l'abbiamo detto in aula, siamo stati presi un po' di traverso, un po' così come persone che vogliono fare solo casino in realtà non è così, noi siamo entrati nel merito di ogni singolo emendamento, siamo stati sul pezzo di ogni singolo emendamento entrando nel testo del piano ma ovviamente non è stato possibile migliorarlo quindi l'unica cosa che abbiamo potuto fare, ci siamo astenuti, non l'abbiamo votato contro perché se anche produrrà un minimo miglioramento sarà comunque un miglioramento però è un documento che non porterà molto lontano.